C'èo! Oggi vi presento Cortex, il gioco del cervello, quello che ormai ho perso da mo' Ci sono diverse versioni In negozio al momento potete trovare I Challenge, versione 1, versione 2 Versione Kids, scatoletta viola E la versione geografica, scatoletta arancione Come si gioca Cortex? Open box it, proprio box it, così che ho detto vabbè Allora, vince il gioco chi per primo conquista? 4 pezzi di cervello Come faccio a conquistare i pezzi di cervello? Dobbiamo andare a vincere 2 carte con lo stesso simbolo Una volta conquistato 2 carte con lo stesso simbolo, vinco un pezzo di cervello A cosa servono i simboli? I simboli ci preparano... Ho mescolato questo mazzo Vabbè, sì perché ci ho giocato spesso I simboli ci preparano alla prova che dobbiamo andare a superare Ad esempio in questo caso Dobbiamo dire qual è il pezzo mancante Qui il primo che dice il pezzo che va in questo posto qui Ad esempio in questo caso è il... Lo so, mette la mano sopra Quindi si prenota e dice la soluzione Dovrebbe essere il C Andiamo, giriamo mentalmente il pezzo C Sì, è lui Vinto la tessera Poi gli altri simboli Labirinto C'è un punto di partenza La freccia azzurra Dobbiamo dire qual è, secondo noi, il punto d'arrivo C Anche lui Poi quelli tatti li ve li faccio vedere dopo Trova la coppia Dobbiamo trovare l'animale raffigurato due volte Fatelo voi Perché io da qui non vedo la carta Non è trasparente Mi suggeriscono dalla regia l'oca C'è vento Cos'è che è? Puoi dirlo, eh Ah, lo scorpione Perché lei è lo scorpione Quindi scorpione Poi il labirinto l'abbiamo fatto Memorizzare Dobbiamo memorizzare questi cinque animali o simboli Perché in altre carte ce ne sono Ad esempio Oca, pecora, pesce Orso e elefante Oca, pecora, pesce Orso e elefante Ma vieni Ma vieni Poi Trovare l'oggetto raffigurato più volte Ti piace quando sposto la carta così velocemente? L'uno Dado numero uno Uno, due, tre, quattro Ma vieni Bello giocare da soli Proprio una soddisfazione E poi ci sono le carte tattili A inizio gioco si danno a tutti A tutti i giocatori Queste carte che hanno delle cose in rilievo Quindi dobbiamo memorizzare Ogni singola carta La propria caratteristica Quando esce Questa carta qui Il I giocatori Cioè Pesca la carta a tatto Chi ha vinto l'ultima carta Gli altri giocatori Scelgono quale carta fargli toccare Gliela si dà in mano E devono indovinare Che cos'è In questo caso Vabbè L'ho vista prima Palla da basket In questo caso Vince direttamente Il pezzo di cervello Basta Tutto qui Mi pare di avervele detto tutte Non è vero Perché ce ne sono tantissime Questa è quella che odio Allora La mano sinistra e la blu La mano rossa e la destra I diti Da 1 a 5 Giriamo la carta Dobbiamo mettere In questo caso Il dito numero 5 Della mano rossa Quindi il mignolo Della mano destra A specchio Quindi il primo Che si mette così Vince la carta Aia Mi sono cercato E questo Dobbiamo trovare La parola scritta Nel colore giusto Ci mettono un po' White Bianco Trovata Bene Tutto qui Sono tutti i giochini di velocità Molto divertenti Sia per Bambini Ragazzi Ma anche per Gli adulti Ci divertiamo un sacco Cortex A1490 Da Creativamente Torino Ciao a tutti